Vabbè lo messo come titolo, va bene, va bene, va bene, ok, i ragazzi mi riciclati Ecco, tanto è il primo che mi compare, ovviamente, neanche a dire, neanche a dire, il primo che mi compare E onestamente non penso nemmeno che sia necessario parlare Sì, però solitamente i video dovrebbero cominciare dall'inizio, non da un minuto So annunciarvelo, sono stata presa alla Sifredi Academy e non vedo l'ora di partecipare a questa splendida iniziativa Sì, dai, cazzo, si va a succhiare il cazzo Ragazzi siete 1800, ragazzi siete pazzi? Com'è possibile? Ma scusate perché? Devo metterlo sempre, sto guardando tweener nel titolo, siete cresciuti di 400 in 5 secondi Sì, sì, andiamo a succhiare, cazzo, dai, mia vecchia Il padre di... Ragazzi, benvenuti in un nuovo video La saga di Maria Sofia continua Lo scorso video pensavo che sarebbe stato l'ultimo Ma quanto pare non riesce a smetterla di dire e fare cose assurde Eh vabbè, tweener, cazzo, ce ne frega, è content anche per noi, dai Nell'ultime 48 ore ho ricevuto più di un centinaio di messaggi E non sto esagerando, di persone che mi mandano l'ultima trovata di questa ragazza Ringraziami, tweener, è stato anche merito mio Anche sotto il post di fanpage che ne parla mi avete taggato in tantissimi Dicendo che mi sta regalando content per 20 vite E in effetti... È vero, ci sono due cose di cui parleremo oggi Partiremo da quella più soft e poi arriveremo a quella più hard In tutti i sensi La prima cosa riguarda il tema dell'amore estremo Dimostrato nei confronti della propria famiglia E del fatto che lei volesse normalizzare i rapporti tra parenti Dopo che io, dei giornali e tutto l'internet l'ha criticata per questa follia Le ha risposto con la carta del gaslighting Provando a negare la realtà Al che tutti le abbiamo fatto notare che ci sono i video che dimostrano che ha detto ben altro E le ha risposto nuovamente un paio di giorni dopo Provando a fare una bella rampicata sugli specchi Non perderò nemmeno tempo a rispondere perché l'ho già fatto la scorsa volta Mettendo proprio gli spezzoni di quella live che sbugiartano tutte le sue argomentazioni E non mi va di farlo una seconda... Ora farà fallire, porno Leo, grazie per diciamo Il rassunto di quest'ultimo video più o meno è così E onestamente non penso nemmeno che sia necessario parlarne di nuovo Perché guardando i commenti ce ne sono tre incroce che le danno ragione E guarda a caso sono quelli che le ha fissate in alto E poi c'è una maria di persone che le fa notare che quello che dice non è vero L'unica cosa che ho trovato abbastanza divertente È quando alla fine rimprovera il web Perché è colpa nostra che l'abbiamo fraintesa Quindi era responsabilità del web prendere questa storia con un altro peso Non creando un putiferio mediatico e non arrabbiandosi se per lui non era tutto limpido e cristallino Sì, se funzionasse... sarebbe bello se funzionasse così Ogni volta che io dico una stronzata, qualcuno dice una stronzata La colpa è sempre di chi ascolta che non comprende esattamente quello che volevo dire io Sarebbe figo se fosse così, sarebbe molto interessante Ok Maria Sofia, anche quando sbagli tu in realtà siamo noi ad aver sbagliato per aver capito letteralmente quello che hai detto A questo punto direi che se qualcuno non l'ha ancora capito non è perché non ha veramente capito ma perché non vuole capire e vuole credere alla storiella di Maria Sofia E va bene così, insomma, ognuno è libero di credere a quello che vuole Se non le si crederà anche a Babbo Natale, chi sono io per degli che non può farlo Stai calmo perché Babbo Natale esiste, io l'ho visto E soprattutto, se devo essere sincero, a questo punto ne ho le palle piene di parlare di familiari che si divertono tra di loro E a proposito di palle piene però, passiamo al secondo argomento di questo video Cioè alla notizia che Maria Sofia ha annunciato che è stata presa alla Rocco Art Academy E per i più innocenti e puri di voi, stiamo parlando proprio di Rocco Sifredi E quello che succede in questa academia ce lo spiega direttamente il loro sito ufficiale Che dice, benvenuto sul sito ufficiale della Sifredi Art Academy La prima vera università dei film per adulti Ideata dal grande Rocco Sifredi con l'obiettivo di formare nuovi talenti da lanciare nel mondo dell'adult Cioè, analisi anale 1 e 2, trapanamento vaginale, resistenza al deep throat 1 e 2 Ingoiamento di sborra 7 e 4 Guarda che comunque ci vuole un certo skill Ci vogliono delle skill ragazzi, non è così ovvio In qualità di attori, registi e sceneggiatori Maria Sofia ha annunciato la cosa su Instagram con delle storie dicendo questo Posso annunciarvelo? Sono stata presa alla Sifredi Academy e non vedo l'ora di partecipare Di cavalcare un sacco di bei cazzoni grossi! Sì, devi farti il culo effettivamente! E da lì ho iniziato a rilasciare tantissime interviste e a pubblicare altrettanti post sulla mia pagina di attivismo Per sensibilizzare sul sex work Quindi sarà veramente incredibile potermi confrontare con persone molto più esperte di me E così accrescere il mio bagaglio culturale Non starò a ripetere quello che ho già ripetuto ieri Ovvero che il sex work Quindi andare a farsi sfondare il culo con dei cazzi Non è esattamente quello che si identifica come accrescere il bagaglio culturale È una roba che ho già detto, ho già ripetuto ieri Non credo ce ne sia bisogno Non credo serva Il bagaglio culturale Non credo che ci sia nulla di culturale Nel prendere dei cazzi Però voglio dire ognuno è il suo Non c'è niente di male ragazzi L'ho già detto Problemi zero Ora più che attivista diventerà passivista Non c'è nulla di male ragazzi Il porno l'ho già detto Così come la prostituzione sono cose che esistono ed esisteranno da sempre Ma ripeto quello che ho detto ieri Tale e quale Non esiste Non esisterà mai Che un genitore trovi che Il fatto che la figlia vada a prendere dei cazzi Sia una cosa assolutamente lecita e normale Sei libero di farlo È giusto farlo Fate bene voi Facciamo bene tutti quanti a farci le pippe sui porno Non c'è nulla di sbagliato nel farci le pippe sui porno Ci sta Ci sta È giusto È lecito così Ci sta Diamo sfogo ai nostri istinti più bassi È giusto Perché no Why not Non siamo in una cazzo di chiesa Non siamo dei cazzo di preti Non viviamo in una religione In un paese religioso È giusto che noi ci divertiamo A farci le pippe sui fil porno Ma sta di fatto che Sicuramente Quando vedo un fil porno E vedo una che prende dei piselli nel culo La prima cosa che penso non è Fantastico Spero proprio che mia figlia faccia questo da grande Lo spero proprio Guarda È esattamente Quando vedo un porno dove vedo una che prende otto cazzi in tutti i buchi La prima cosa che penso è Madonna che bravura questa ragazza Non vedo allora che mia figlia Io spero che mia figlia intraprenda questo percorso Perché proprio Guarda È di una levatura incredibile Come ho già detto anche su TikTok No Se vedo Margherita Hack Penso che mia figlia dovrebbe Spero che mia figlia diventi così Se vedo mia figlia che viene trapanata da 47 piselli E contiene più sborra che sangue nel corpo Non penso Oh mio dio Straordinario Guarda Spero che anche mia moglie intraprenda questo percorso Incredibile Cioè E con questo ripeto Perché io non voglio Non voglio essere frenteso ragazzi Perché Ieri ci sono anche persone che hanno frenteso Io non sono contrario al porno Il porno va benissimo Va benissimo il porno Vanno benissimo anche le prostitute Vanno benissimo le mignotte Vanno benissimo Va benissimo li fanno Va benissimo qualsiasi cosa Vabbè che poi li fanno una cosa completamente diversa Però Va benissimo tutte queste cose qui Va benissimo Ci sta È giusto che ci siano È giusto che la gente vada È giusto farsi le seghe sui film porno È lecitissimo Quello che io dico È che è impensabile Che un genitore Vedendo la figlia che viene sfondata in ogni buco Pensi Bellissimo Straordinario È esattamente quello che ho sempre sperato tu facessi È solo questo Io non voglio far passare il messaggio Che è sbagliato farsi le seghe Perché è una strozzata È una micchiata Ragazzi noi vi diamo tutto Ciao Andrea Sono un po' agitato Domani inizia la maturità Ho bisogno della sua benedizione E come doppio porta fortuna Userò la tua maglietta La benedico Paratino Grazie mille per i 3 ore 33 Grazie mille Cioè ripeto Non voglio far passare questo messaggio Perché questo messaggio Non è il mio messaggio Ragazzi Fatevi Riempitevi di seghe Guardando i porno Però Però Quello che vuol far Maria Sofia È utopistico È impossibile Cioè quello che vuol far lei È far passare il messaggio Che un genitore Non dovrebbe Avere nessun tipo di pensiero Se la figlia va A farsi sfondare il culo Per soldi No No Non accadrà mai Non succederà mai Ragazzi Non c'è Non È stupido È ipocrita Non è reale Cioè Sarebbe Cioè Sarebbe come Immaginarsi un padre Che vede la figlia E la figlia gli dice Papà Vado a batteri in tangenziale Ok figliola Sono molto fiero di te Bravissima Hai intrapreso una carriera Da donna indipendente Forte Che ti permetterà di guadagnare E di vivere da sola Con le tue forze Ma ricordati di fatturare E di pagare le tasse Cioè No No Anche perché ragazzi Poi ieri mi avete parlato Di libertà sessuale Ma che cazzo c'è Entra la libertà sessuale La libertà Ragazzi la libertà sessuale È poter fare Essere libero Di esprimere Con il proprio corpo E la propria mente Una passione Che si ha con delle persone La libertà sessuale Vuol dire che Gli omosessuali Gli etori Transessuali Riescono a stare insieme Riescono a poter Avere una vita amorosa Riescono a poter essere liberi Di esprimere il loro amore Vuol dire poter scopare Senza aspettare il matrimonio Vuol dire essere Indipendenti nel sesso In realtà vale anche per i maschi Giusto per non farti passare Per maschilista Andrea 1988 Parmata Assolutamente Assolutamente Grazie per il Ciro Domenico Grazie per la Sapa Assolutamente Questo vale anche per i maschi Ci tengo a specificare L'ho detto anche ieri Lo ripeterò ancora È che qui si parla di lei Lei è una donna E io parlo a lei Cioè la libertà sessuale Non vuol dire Mi faccio sfondare il culo per soldi E lo mostro a tutto il mondo Quello non è libertà sessuale Ragazzi Quello è ostentare Un comportamento Che È abbastanza squallido È abbastanza squallido Cioè Allora Io delle due Io delle due Preferirei almeno Onestà intellettuale Onestà intellettuale Mi dici Mi dici Guarda Mi piacciono i cazzi Mi piace farmi vedere Voglio farmi trombare per soldi E voglio che tutto il mondo lo veda Dici Oh Oh Non capisco Non approvo Vabbè Però Che tu Vai a farti trombare Perché vuoi far passare il messaggio Che sia una cosa Normalissima È È È mentalmente delirante Cioè Hai qualche Hai qualche problema nel cervello Hai la testa che non va Cioè tu vuoi andare a farti vedere Da tutto il mondo Che prendi dei cazzi Per far passare il messaggio Che I genitori dovrebbero dire alla figlia Che fa queste cose Tranquilla va tutto bene Questa cosa è una Ragazzi è una cosa aberrante Cioè È questa Non so come dire Ma È viscida Mi sento Cioè mi sento sporco a pensarlo Non so come dire Mi Mi sento come una patina di sporco addosso L'idea L'immaginario Immaginare nella mia testa Un padre Che dice Vai figliola Fatti sfondare il culo E fatti vedere da tutto il mondo È proprio sbagliato È sbagliato Cioè Ma un padre che ti dice così È un padre che Non gliene frega un cazzo di te Non ti vuole bene Non Non ti ama Non ha nessuna Non ha nessun affetto per te Cioè È un padre Che dice Fai il cazzo che vuoi Che se ne frega Cioè È proprio sbagliato E ripeto Sto dicendo Non è che sono contrario al porno Perché ragazzi Sì Riempitevi di pippe Ci sta È lecitissimo Fatevi tutte le seghe del mondo Divertitevi Però Non è quello il discorso Non è quello il senso Come fai a pensare che un padre Possa dire Cioè Boh Io veramente Mi fa morire vedere Quanto è fiera di annunciare questa cosa Come si stesse raccontando Di essere stata accettata Da Harvard Invece no È stata accettata La Rockward Academy C'è solo una minuscola differenza Tra le due Dai però Siamo lì E per quando dice Che vuole andare Per arricchire Il suo bagaglio culturale Io penso Che lo faccia apposta A questo punto A dire queste stronzate Perché sa Che poi la gente Ne parlerà Questa notizia Ovviamente Ha creato un po' di scandalo Soprattutto perché Ha 18 anni Da pochissimi mesi E ha già deciso Di buttarsi in quel mondo E anche qui Non starò a ripetere Che a 18 anni Non capisci un cazzo È stata criticata Da Poi ci sono quelli Che ci sono quelli Che hanno paragonato Questa cosa a Olifan È incredibile Quanto la gente Si è poca Ci sono quelli Che mi hanno detto Eh ma tu hai detto Che eri a favore di Olifan Olifan Non è una piattaforma Dove prendi dei cazzi Olifan È una piattaforma Dove puoi farti vedere In costume Farti vedere nuda Fai sesso con chi vuoi tu E decidi tu Se farti vedere E decidi tu Qual è lì Non è uguale Fare film porno Non è Olifan Perché Olifan Puoi anche fare dei nudi E i nudi Non equivale A prendere dei cazzi Especialmente Non lo mostri Al mondo intero A gratis È una cosa Come si dice Circo scritta Cioè Non è uguale Non puoi pensare Di paragonare il porno A Olifan Non è uguale Tante persone Tra cui Suo padre E qui la storia diventa assurda Veramente La vita di sta ragazza E della sua famiglia È qualcosa di incredibile Perché il padre di Maria Sofia È andato in radio A criticare pubblicamente Le scelte di sua figlia In particolare Ha parlato alla zanzara Dove si lette estremamente Contraria la sua decisione Lui commentare Lui come te resta anche la madre E diciamo in breve Quello che ne pensa È questo Ecco ma a te non te ne frega niente Se lei girerà Io adesso non sono a conoscenza Sembra che le intenzioni Non siano queste Delle scene hard A casa si freddi Cioè una cosa Che ti darebbe fastidio Adesso Ti rispondi Con altrettanta franchezza Non è che mi dà fastidio Mi strazia Mi strazia Però cosa devo fare È un dolore pazzesco Ho guardato anche altre puntate Sempre della zanzara In cui interviene il padre Per parlare di tutte le cose Che combina sua figlia E lo trovate molto interessante Perché anche io Come tanti Mi sono chiesto Mentre Maria Sofia Fa tutte queste cose Dove sono i genitori Perché non fanno qualcosa Io Allora Poi Io ragazzi Non voglio stare a giudicare Oddio santissimo Io non voglio stare a giudicare La situazione Perché io la situazione Non la conosco Metti caso Che lei sia rimasta Traumatizzata Da un'infanzia Ultra religiosa Non lo so Non ho idea Io non vivo in quella casa Non lo so Ma sto ipotizzando Sto ipotizzando Ipotizzo Mi sembra I suoi genitori Mi sembrano molto religiosi Metti che lei Sia rimasta traumatizzata Da un'educazione Troppo religiosa E questo sia una sorta Di meccanismo Che la porta A vedere le cose Nella maniera Totalmente opposta Ma talmente opposta Da sforare Non lo so ragazzi Non lo so Ma perché ipotizzo Perché questo comportamento Ragazzi non è normale Questo comportamento Non è normale C'è qualcosa Che non va ragazzi C'è qualcosa Che non va No c'è qualcosa Che non va ragazzi C'è qualcosa Di strano qui C'è qualcosa Che non quadra C'è qualcosa Che non va Non è una cosa normale Ogni volta Che succedono scene Di questo tipo E poi c'è sempre C'è qualcosa Che non va Fabio Grazie per i set Ma di no Devo dire che mi dispiace Davvero tanto per loro Si è visto l'ip E beh allora Da quello che ho potuto ascoltare Il padre mi è sembrato Anche un uomo Abbastanza ragionevole Tra l'altro Ha anche definito Sua figlia Una femminile Tanto io ho il coso Che ogni volta Che spenga e riaccendo L'ip cambia Quindi non è Nista tossica A un certo punto E praticamente si sente Che ormai un uomo distrutto Era assegnato Provando a mettermi Nei suoi panni Non so come mi sentirei Tu fai tutto il possibile Per far crescere Le tue figlie al meglio E appena compiti 18 anni Lei finisce a fare discorsi Su normalizzare l'incenso A Prision OnlyFans Dove fa foto e video espliciti Noi non possiamo giudicare Noi non possiamo giudicare Questa cosa Perché noi non sappiamo L'infanzia Non sappiamo i trascorsi Non sappiamo Noi che cazzo ne sappiamo Delle educazione Che io che cazzo ne so Come facciamo a giudicare Non ho idea Cioè Con delle quarantenni E adesso questa storia Della Rocco Academy Davvero penso che mi chiederei Che cosa ho sbagliato Pensavo che queste cose Potessero succedere Solo ai padri Che escono per comprare il latte Senza più tornare E sempre il padre di Maria Sofia Ha anche parlato di altri aspetti Che sono abbastanza importanti Per capire i comportamenti Di questa ragazza La prima E che in tre mesi Le avrebbe guadagnato Più di 80.000 euro Con OnlyFans Questo vuol dire che in un anno A questo passo Farebbe più di 300.000 euro Cosa credere C'è anche l'opzione Più banale di tutte C'è anche l'opzione Più banale di tutte Che non credo Sia quella vera Non credo sia quella giusta Non lo credo Ritengo che sia Semplicemente Una delle opzioni Ovvero Mettersi a fare ste robe E far passare Che sia normale Così fai soldi E nessuno ti dice niente Però dai Non credo Toleran Grazie mille Diciamo che Non voglio essere malpensante Fino a questo punto Voglio dire Il resto mi fa capire Anche il motivo Per il quale prova Sempre a cercare Attenzione Dicendo Ragazzi ho capito Che la green c'è Rocco e mario sofia Se green non mi invita Perché non mi vuole Ragazzi non è che sono io Che entro da green Non è che gli hackero Il canale Follie Perché sa che ci saranno Non so 200.000 persone Che sentono quello che ha detto Magari 199.950 Pensano che sia impazzita Ma 56 gaioli Che sono messi ancora peggio di lei Si incuriosiscono E si abbonano Solo i fans Moltiplica questo processo Per ogni stronzata Che lei dice E fa Come la storia Del revenge Qualche mese fa E ora questa storia di Rocco E ottieni 300.000 euro In un anno Certo il prezzo che paghi E la tua dignità Al punto che anche I tuoi stessi genitori Ti disprezzano Fino a criticarti pubblicamente Ma se per te I soldi e la fama Sono più importanti Questo è quello che succede E se perlomeno fosse Io non la vedo Così tanto drastica Non la vedo così drastica Come tweener Per me qua Il problema non sono i soldi Per me qui sotto C'è fondamentalmente Un problema di fondo Per me c'è un problema Psicologico di fondo Qua Qua c'è un problema Psicologico di fondo Ragazzi C'è qualcosa che non va C'è qualcosa che non va Cioè Non è Secondo me non è Questione di soldi Secondo me Potrebbe anche essere Questione di soldi Potrebbe anche essere Come ho detto io Potrebbe anche essere Come ho detto io Non credo Ma potrebbe essere Magari è tutto un sistema Per far passare Che quello che fai È normalissimo Così fai soldi Nessuno la critica Però io non penso sia così Non credo almeno Non credo sia questo qui Credo che ci sia qualcosa Sotto di molto 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 Strano E io Oso dire Oscuro Questa cosa qui Mi sa di qualcosa Di oscuro Mi sa di qualcosa Di proprio Di sbagliato Proprio sbagliato È proprio sbagliato Quello che sta succedendo qui Coerente E dicesse che lo fa solo per soldi Almeno sarebbe un passo avanti Sarebbe senz'altro criticata Perché comunque È abbastanza discutibile Quello che fa Ma almeno sarebbe coerente E invece no Lei deve andare avanti A dire che lo fa Perché è femminista E questo è il suo modo Di fare attivismo Certo 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 Perché sei femminista Vai a fare porno Perché sei femminista Ti butti a capofitto In un'industria Che è un'industria Maschile Rocco Balocco Il biscotto Che vorrei Scherzi a parte Se mia figlia Mi dicesse Che vuole fare PRN O creerei La macchina Del tempo Ed eviterei L'errore Della vita No ma mi fa ridere Perché fare porno È una cosa Che non combatte Il maschilismo Non combatte Il patriarcato L'esatto contrario Boga Grazie per i tre Padatino L'industria del porno È un'industria Maschile Che serve Per far Fare le seghe Agli uomini Che guardano porno Per oggettificare Il corpo della donna E arrapparsi Trattando le donne Come oggetti E ripeto Non c'è nulla di male Non c'è nulla di male Ragazzi Non c'è nulla di male Se non fosse Che Se non fosse Che Se tu Ti fai la pippa Sul video porno Di lei che è incastrata Ma dopo capisci Perfettamente Che quella è un porno E lo capisci Lo sai Il porno Non è realtà Non sono reali Se ti fai la pippa Su lei incastrata Nella lavatrice Ma sei sano di mente Lo sai Che quella È una finzione Una fantasia Una cosa immaginaria Eccitante Che non esiste Esattamente come Quando gioco a GTA Vado Sparo in faccia La gente Rubo auto E faccio rapine Perché è una cosa Eccitante Ma so che la vita reale Non è così Lo so Ma esistono anche persone Che coltivando Questi concetti Perpetuano un concetto Per il quale Le donne Sono degli oggetti Quindi la soluzione Qual è Togliere i porno No Per lo stesso motivo Per cui Non è che tolgo le torte Perché la gente Diventa obesa E muore di infarto O tolgo l'alcol Perché la gente Muore in strada Con l'alcol No Però Non andrei in giro A dire Che Vado in una fabbrica Di torte Per combattere L'obesità Non è che Vado a lavorare Per la Philip Morris Dicendo così Combatto i tumori Ai polmoni Cioè Tu vai a far parte Di un mercato Che lo sai Che in un modo Nell'altro Perpetua Una determinata idea È come pensare Di aprire una pasticceria E fare torte Per chi è obeso Per aiutare gli obesi No Non è così Non è così Che combatti Le cose Per cui combatti Non funziona così E tantomeno Puoi pensare Di far cambiare idea Alle persone Cioè Cosa vuoi fare Nobilitare Quel lavoro lì Cioè Cosa vuoi farci credere Qual è Cosa vuoi farci credere Che prendere Dei cazzi Per soldi Sia una cosa nobile Perché Perché Qual è lo scopo Che cosa serve Cosa speri D'ottenere Cioè Vuoi farmi credere Che ciucciare cazzi E farsi sborrare In testa Sia una cosa nobile Che le donne Dovrebbero fare Tutte quante Per riuscire A Emergere Come Donne indipendenti Cioè Le donne Hanno combattuto Per il diritto Di voto Hanno combattuto Per il diritto All'aborto Al divorcio Quelle erano battaglie Per la libertà Le donne Hanno combattuto Per poter esprimere La propria sessualità Le donne Hanno combattuto Per essere libere Le persone Omosessuali Transessuali Stanno combattendo Per poter Essere sessualmente Libere Di esprimere La loro relazione Amorosa e affettiva Andare a succhiarcazzi Per soldi Non c'entra un cazzo Con la libertà sessuale L'indipendenza femminile Che cazzo c'entra Quando Quell'industria Dei film per adulti È forse uno degli ambienti Più tossici in assoluto Sia per chi ci lavora Che per chi non soffriisce E lei che dice di voler Essere attivista È proprio L'ultima cosa Che dovrebbe supportare E sponsorizzare E il mio discorso Non è per dire Che quei contenuti Dovrebbero essere bannati O altro Ma che non dovrebbe essere Mostrato è comunque qualcosa Di fantastico E che le persone Hanno dei pregiudizi Solo perché sono bigotte Per parlare onestamente Da ogni punto di vista Sia quelli positivi Che quelli negativi Che sono tanti Per chi ci lavora Se ci fate caso Tantissime delle ragazze Che ci hanno lavorato Anche quelle più famose Come Lana Ci lavorano per un paio di anni E subito dopo Abbandonano E si pentono amaramente Di tutto quello che hanno fatto Volendo cancellare tutto Anche se purtroppo Non possono più Questo sia per le cose disgustose Che hanno fatto Fisicamente Ma anche per le conseguenze Delle loro azioni Che le tormenteranno Per tutta la vita E non solo loro Ma anche le loro famiglie E che un padre Si preoccupi Che sua figlia Solo i 18 anni Ha deciso di fare tutto questo Direi che è il minimo Anzi E' stato fin troppo calmo E disponibile Dato che alla fine L'ha permesso di andare Quando Rocco gliel'ha chiesto E Maria Sofia Invece di apprezzare Delle persone Che provano ad aiutarla A non rovinarsi la vita A 18 anni Lei gli fa un video contro In cui alla fine Dice a suo padre Che dovrebbe andare Mio padre è un ipocrita Dovrebbe fare terapia Ovviamente 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 E' il padre l'ipocrita Giusto Perché lei Lei non riesce a capire Lei non riesce a capire La differenza Di vedere qualcuno Che fa qualcosa Da esterno O vedere qualcuno Che lo fa Quando è tua figlia Se a me Mi raccontano Che nella mia via C'è uno che si droga Io dico Mio dio Che cazzo Ci mancava Il tossico dipendente Nella mia strada Se mio figlio Si droga Non è che dico Mio dio Che schifo Il tossico dipendente Nella mia strada Cerco di aiutarlo Mi dispiaccio per lui Una visione Di un qualcosa Cambia drasticamente Quando cambia Il soggetto A cui è riferito Quella cosa Se io domani Mi faccio una sega Vedendo una tizia Che prende otto cazzi Lì posso anche Trovare interessante Il video Ma non è che Se lo fa mia figlia Lo trovi interessante E questo Non è ipocrisia È normalità Perché non è che Guardando la tipa Che prende otto cazzi Penso fantastico Mia figlia dovrebbe farlo In terapia Questo perché Non è felice Del fatto che Sua figlia Di 18 anni Ha deciso di andare A fare dei video Per adulti Con Rocco Siffredi E l'ultima cosa Su questa storia È che il padre Di Maria Sofia Ha anche detto Che secondo lui Sua figlia Potrebbe essere manipolata E questo Può darsi che sia vero Non lo so Sicuramente conosce Sua figlia Meglio di tutti noi Che la seguiamo Solo sui social Non è che penso Al mio orticello Però è ovvio Cioè È la stessa È la stessa cosa Che accade Quando Quando tu vedi Quando tu vedi Non so Un video Di uno Che ti racconta Che ha fatto La rapina Del secolo E ha rubato Un centomila dollari Da un'assicurazione Ed è scappato via E vive la sua vita Con quei soldi Tu magari pensi Incredibile Sto qua È un genio Ha fatto la rapina Del secolo Se i soldi Sono i tuoi Non pensi così Cioè Hai capito Il senso Le cose cambiano In base a chi è Cosa per chi Maggi Grazie per i cinque Atten Grazie per i diciannove Grazie per i sapratini Le cose cambiano Quando cambia Il soggetto Riferito all'azione stessa Ma potrebbe anche essere Che preferisce credere Che lei sia stata manipolata Piuttosto che accettare Il fatto che Ma perché è manipolata Dalla tipa del tubo Dalla tipa del tubo Dalla diva del tubo Scusate Che la diva del tubo È quella che ha fatto Il corso per manipolare Gli uomini Io queste cose Le pensavo a 15 anni Io a 15 anni Pensavo a queste cose Io a 15 anni Pensavo Sono un genio Sono un manipolatore Infine occhierò Gli altri Li ingannerò Poi sai Sono cresciuto Che sua figlia Si è diventata Così Quello che penso io È che sia parecchio Influenzata Ad alcune ideologie No ragazzi Green non mi ha invitato Ragazzi No non mi ha invitato Green ragazzi Non te l'hai continuato A chiedere Ragazzi Ragazzi tranquilli Se mi invita Vado Non mi preoccupate Se mi manda Il link Vado Se non me lo manda Vuol dire che non mi ha chiamato Ragazzi Perché magari non vuole Perché magari vuole Che la live Assuma una connotazione ironica Non assuma una connotazione seria E voi lo sapete Che con me diventa seria Quella live Data capofitto E questo Unito al fatto che È pronta a tutto Per ricevere attenzioni Che poi Nel suo caso Si trasformano anche in soldi La stanno portando A prendere decisioni Che sono sempre più estreme Credo che sia molto probabile Che tra qualche anno Si pentirà ammaramente Di tutto quello che ha fatto E finché si tratta Di non condividere più Le idee dei suoi video Non ha molta importanza Perché alla fine Può capitare a tutti Di cambiare idea Andrea mannaggia Come ti permetti Di chiamarmi maghi Il mio nick Si legge Come si scrive Ti perdono Perché sei il migliore Papere la sub È gratis Maximone Grazie e benedì Se si tratta Di video espliciti In cui fa cose così spinte Purtroppo Sarà troppo tardi Non penso che serva Aggiungere altro Ringrazio gli abbonati Per il supporto E direi che ci bicchiamo Alla prossima Ragazzi Adesso ripeto Questa cosa qui L'ho trattata con più calma Perché ieri Mi avete detto Che sono stato troppo agitato Mi sono arrivati messaggi Che Bla bla Micchia È incredibile Come le cose Che ho detto ieri Mi abbiano trasformato Immediatamente In un conservatore Beloniano Io Sono Sono un polimorfista Cioè Io sono Come si dice Un poligono Come si suol dire Io riesco a passare Dall'essere accusato Di essere un sinistroide Pro LGBT Ad essere un conservatore Pro Meloni È incredibile Ragazzi È incredibile Come Ieri l'altro Mi davano del sinistroide Pro LGBT Ieri mi hanno dato Del conservatore Pro Meloni No no Non poliedrico Poligono Poligono Ieri sei stato un po' aggressivo Ieri sono stato aggressivo Sì lo sono stato Lo ammetto Ma io sono sanguigno Io sono così Io sono aggressivo Io quando parlo Sono aggressivo E spesso e volentieri La gente prende la mia aggressività Per un attacco No Sono solo aggressivo Sono solo una persona Che quando parla È aggressiva Tutto qua Per determinati argomenti Ma non è che ti odio Perché sono aggressivo È semplicemente il mio modo di parlare Sono poligono Sono un gran poligono Io Come si chiama I chihuahua Ragazzi È inutile che mi chiedete Di andare da Green Green Non mi chiama Ragazzi Non mi chiama Se Green Non mi manda il link Per entrare da lui Vuol dire Che non mi vuole lì È inutile che insistete Ragazzi Non mi vuole lì Si vede che non vuole Che in quella live Entri io A dire le cose Ma non posso guardare La sua live Ragazzi Ma scusatemi Anche voi Voglio dire Cioè Fatevene una ragione Ragazzi Non Non È così e basta Cioè Non è colpa mia Ragazzi Green Io non posso entrare da Green Quando mi pare Ragazzi Non ho accesso al computer di Green Io vado da Green Se Green mi invita Se Green non mi invita Io non posso andare da Green Non posso accherargli Il computer Ragazzi Allora Vediamo un attimo Sono indeciso tra In segreto Di Oggio giusto Grazie per i quattro Guardino Vediamoci una puntata di In segreto nel 2023 Voglio vedere quale Depravazione mentale Abbiamo oggi Porca troia Che Salve tutti Ragazzi Sono Bertrand Ben tornati Lo so che è mezzanotte Ma ho iniziato un po' più tardi Allungo un po' le reaction Dai Oggi Torniamo su in segreto Dopo Quanti anni Po' Otto Da quando lo facevo nel 2016 Siamo arrivati Qui Perché vi vogliamo Bene Aia mi sono fatto veramente Un botto male Sono un pirla Della madonna Aia che male Che male Che male Vediamo se il tempo È stato gentile Con lui O se fa schifo Al cazzo Non è così bello Vediamo Se fa schifo Lo tolgo L'ultima volta Che ho controllato Faremo dei tentativi Faremo delle ricerche Partiamo subito Cercando quelli che erano I migliori segreti Di in segreto Quelli NSF Comunque non capirò mai Cosa spinge la mente maschile A farsi una foto Dell'arnese E taggarci ragazze Sotto a caso Non consensienti Per me è da denuncia Oltre che le traumatizzi a vita E ottiene il risultato opposto Ragazzi Se volete fare Ma tu sei il king Delle fottute papere Tu entri dove cabbo Buoi Andrea 1988 Partia Ragazzi Se vi state frequentando Con una ragazza E vi state scambiando Messaggini porno Non mandategli la foto O il video del cazzo Che sborra Mandategli un video Della vostra espressione Quando venite Date retta papà Date retta papà Perché io ho una mente superiore Io so come funzionano le cose Date retta papà Quando mai è successo Che qualcuno posti le foto E taghi la gente? Ho detto ragazze Che vi frequentate Non ragazzi a caso Che vedete Ho detto ragazze Che vi frequentate Vi frequentate Non l'ho detto ragazze A caso per rimorchiarle Hai sentito la notizia Che Putin Ha dichiarato L'omosessualità Malattia mentale? Tutti le persone Che appartengono Alla LGBT Saranno sottoposte A trattamenti sanitari Obbligatori E a una terapia Di conversione Sei sicuro? Purtroppo In altre nazioni Già è così Ora anche in Russia Ma sei sicuro? Ma sei sicuro di questa cosa? No ragazzi Non lo sapevo Perché oggi Non ho letto i giornali Non ho letto le notizie Vi chiedo scusa Ma è pazzo Ma è completamente pazzo È completamente pazzo Quell'uomo È fuori di testa Ma che cazzo Cioè Il problema È che l'omosessualità Non è una malattia È quello il problema Come la combatti La scienza? La alteri? Come la combatti La scienza? La religione È una cosa Combattere la religione È questione di fede Della scienza Come fai a combatterla? Scusami La scienza ha già dimostrato Che l'omosessualità Non è una malattia Come altererà la scienza? Farà come hanno fatto Tutti i despoti Altereranno i dati scientifici Per dare conferma a lui Però Sì ma è completamente Il ministro della salute russa Ha detto che hanno già una cura È interessante Di come il ministro della salute russa Abbia dichiarato Di avere una cura Quando noi Non sappiamo ad oggi Da che cazzo È causata l'omosessualità Noi non lo sappiamo Noi La scienza Non sa Perché una persona È etero omosessuale Non ne abbiamo idea Non sappiamo Se il motivo è genetico Se il motivo È ambientale Non sappiamo Se il motivo deriva Da altri Noi non lo sappiamo Come cazzo fai A Curare E mi fa abbastanza schifo Dirlo Una cosa che Non sai nemmeno Da che cosa diventa Abbastanza preoccupante Ragazzi Abbastanza preoccupante Questa cosa Vecchio E mi son perso Dei trend nuovi Ma raga Che cazzo è Sta roba nuova Non fatelo Vi prego Donna di vent'anni Ci dice Se mai avrò dei coinquilini Li voglio tutti Maschi etero Ti piace? Ti piace la stamberga Vecchio troiona No la vita Non è come un porno Mi dispiace Darte questa notizia Ed è anche a tema Col video che abbiamo visto prima Incredibile ma Di base Non è come una fanfiction Erotica Su Harry Potter Comunque devo dire Che in segreto Sembra essere invecchiato Malino Ma va bene Va bene così Uomo di 18 anni Chiede Ma a 19 anni Come stavate messi a peli sul pipo E sul petto Chiedo Se tu hai i peli sul cazzo Io ti consiglio di farti curare Io ti consiglio Un'epilazione laser totale Perché se tu hai i peli sul cazzo Hai un problema I peli li puoi avere sul linguine E al massimo alla base del cazzo Sullo scroto Se tu hai i peli sul cazzo È probabile che sei un licantropo Non ancora ben maturato Io lo dico Eh no per dire Credo per un amico Cosa si chiedono i diciottenni di oggi Questa la nuova inchiesta di Bertra Lo youtuber che si chiede Ma voi a 19 anni Come eravate messi a peli sul pipo e sul petto Sinceramente preferirei averne meno Oltre che meno grossi Meno lunghi Che ricrescano più lentamente Stiamo parlando dello stesso uomo Che ha appena scatenato una guerra E che la sta smentendo Dicendo che ci sono laboratori Di armi segrete Dove sta invadendo Stile America proprio Come ci si può aspettare Un'apertura mentale Da uno così Stile Stati Uniti Grazie per il ciro E capisco perfettamente Tutti sul pipo Pochissimi sul petto Interessanti notizie Grazie mille per questa informazione Oh cazzo sono un licantropo Cioè tu hai i peli sul cazzo Tu hai i peli sul cazzo Cioè tu dalla cappella C'hai i peli Spero che anche voi Stiate bene Uomo di 24 anni Dice comunque più le ragazze Pensano di essere brutte Più sono maialine Ehm no No Non funziona Proprio così Eh no Mi dispiace Ma non è una verità Se tu hai 24 anni Parli così Ti prego sul dio Non fare mai più sesso Neanche con le ragazze brutte Come dici ti prego Basta Non Non Evita di riprodurti Per il bene dell'umanità L'essere delle maiale È una dote in una donna Ma non deriva direttamente Dall'essere belli o brutti Ehm Prolifici a livello sessuale O meno Al nord ci sono sempre più G4Y Rispetto al sud Basta vedere Milano In confronto a Napoli E il Canada In confronto agli USA Credo che la cosa più probabile Sia che magari al sud Hanno più paura di mostrarsi Mentre al nord Ne hanno meno Ma statisticamente parlando Non credo esista Nessun indice Che indichi Che in meridione Nascano meno omosessuali Che al nord Il ragazzo di 16 anni Chiede Poco fa Puoi fare un test Apri un ristorante vegano Tutti quelli che entrano Sono gay Scusate Piccola battuta Me la concederete Una battuta Voglio dire Vi batto sempre Per la difesa Degli omosessuali Mi concederete Una battuta Voglio dire Vegani in chat Si schiava Cazzo me ne frega Dei vegani Non sono mica Categoria protetta Mica ti posso imbannare Per i vegani Cazzo me ne frega Dei vegani Macca Grazie per i 14 Una sega Adesso Voglio dire Una Basta Non mi fa Troppo cringe Questa cosa Uomo di 19 anni Sono tornato a casa Dal lavoro E ho trovato Il mio fratello Di 16 anni Nudo in camera mia Col cazzo in tiro E un paio Di miei boxer usati Con cui mi sono pulito Ieri sera Dopo essere venuto Uno Perché erano ancora lì Cioè vabbè Uno in realtà sarebbe Di Cosa scusami 10 minuti fa Ma tu ti lavi Con i boxer Poi lasci lì Cosa fanno la muffa Fai un piccolo ecosistema Mi ha detto che è disposto A fare tutto Purché io non te lo dica A nessuno Non so cosa fare Potrei chiedergli una pompa Lo so che sono tutte Fake ste puttanate Però mi fanno cringere Comunque Mi cringe il fatto Che qualcuno L'abbia scritto Abbia utilizzato Il suo cervello Per scrivere Uomini Albero ben potato Sembra più grande Sì e non solo Se la tua ragazza Deve andare lì sotto Evitate di fargli trovare Dei peli in bocca Fanno schifo al cazzo Stessa cosa vale per le donne No Non ci piace Quando andiamo lì sotto Trovarci dei peli Incastrati Fa i denti Fanno schifo alla merda Tanata del genere Mi fa proprio male Tutto L'universo Basta Facciamo una cosa Cerchiamo Bertra Tra i segreti Vediamo cosa succede Mi ricordo il 2015-16 Ero piccolissimo E guardavo i video Di Mike Shosh Ebertra sui segrete Dove c'erano migliaia Di avvoti ai segreti Mi era trista Che sia un sito morto Per fortuna È un sito morto Porca bestia Ma per fortuna Sono felicissimo Che sia un sito morto Non io che mi guardo Una live di una Che racconta Di come ha vissuto Gli ultimi giorni Con il gatto Di un suo amico E sono super interessata Totta Leo Bertra Amichetti Quando Totta mi teneva Giulia grazie a tutti Bellissimo bravissimi Grazie Totta Che mi hai tenuto il gatto Rifallo ti prego Anche quest'estate Ogni volta che guardo Un video di Berta Sulle mammine pancini In parte mi diverto In parte mi cringio Perché penso che mia mamma Potrebbe pensarla Come quelle tizie O essere una di loro Dato che è la tipica Madre Cristina Che si è sposata Cristina Da febbra Da giovane Non ha fatto sesso Fino al matrimonio Denuncia tua madre Assolutamente Donna di 19 anni Denuncia tua madre Scappa E dile di cambiare nome Perché Cristina Non è un grandissimo nome Scusate tutte Cristine Era per la battuta Giuro su D Ragazze di 14 anni Comunque il nome amichetti Per unire il trio Bertra È tutto su Bertra Non so cosa dirti Ragazze di 14 anni Purtroppo il fatto Che toglie 14 anni Invalida la tua opinione Mi dispiace un botto Ma purtroppo Non hai la maggior età L'ol è passato di moda Ed è cringe Wow I capelli non li tagli? No Perché voglio diventare Sempre più simile a Gesù Cristo La sua stessa arma Contro di lei Oh ragazze di 14 anni Dice voglio fare una tre Vabbè ho capito Ma è tutto su Bertra Questo in segreto Summer days Sta per finire Questo mercoledì Chicken creation menu L'altra Così lo tolgo Perché Solo con l'app Oh è un po' sbatti Un po' strano Dunque Deanne dice Voglio tornare a 13 anni A guardare i video di Bertra In una foto E ho avuto Ma ci sono degli in segreto Che non riguardano Bertra In live che aveva un dildo Nero lungo due metri Un sogno più Scusami non ho capito Io voglio quella fanfiction Qualcuno me la linki qui sotto Grazie Ragazzo di 16 anni Oggi ho fatto un sogno più strano Che abbia mai sognato E sentito Oggi ho fatto un sogno Più strano Che abbia mai sognato C'era Bertra In live che aveva un dildo Nero lungo due metri Con cui stava inculando Yotobi Utilizzando gelato al pistacchio Come lubrificante In tutto questo Con i passanti Che guardavano Grazie Credo che avrò Degli incubi Stanotte Molto Molto gentile Molto apprezzato Credo che vomiterò Più tardi Succede A volte Succede Abbiamo Io e Yotobi Questa Relazione Clandestina Mi dispiace Che l'abbiate scoperto così Ma succede Un ragazzo di 17 anni Dice Usa la crema E' meglio Bertra spero tu non legga mai Questo segreto Mi dispiace Lo dico nel modo Meno sessuale possibile Ti giuro Ma hai dei piedi Bellissimi No Grazie mille Passo Passo volentieri La palla a qualcun altro Ma che schifo No Cioè ho i piedi distrutti Da MMA Quindi non sono belli Ve lo posso assicurare Quindi mettetevi il cuore in pace Non ho dei bei piedi E ora voglio cercare Totta nei segreti Perché sono una persona orribile Ma perché esistono Delle Rule 34 Su Totta Ce lo chiediamo tutti Ce lo chiediamo Veramente tutti Ce ne sono molte più Di quante vorrei vederne Ci sono anch'io Che faccio sesso Ma beh ma è tutto su di loro Ma no dai Tutto su di loro Lo tolgo Perché volevo vedere I segreti della gente Traviata mentalmente Vado un attimo al Walter Papa Ricchiudo scusa Perdonatemi un secondo Grazie a tutti Grazie a tutti Cioè il cane immobile Fuori da camera via Pensavo fosse morta Per un momento Pensavo fosse deceduta Per un momento Allora Papere In teoria È al momento gaming Io devo pensare A che giochi portare Nei prossimi giorni Ragazzi Devo pensare A che giochi portare Ah tra l'altro Vi avviso prima Vi voglio avvisare prima Farò anche una storia Io ragazzi Il 23 Non sarò in live Perché è il mio compleanno E vado fuori a cena Quindi Il 23 Il 24 Venerdì e sabato Io non Sarò in live Ve lo dico già Perché il 23 Il 24 Vado fuori con nomi Il 23 È il mio compleanno E non ci sono Io ve lo dico Lo festeggio No ma con voi Lo festeggio a mezzanotte Con voi Mezzanotte di Dopodomani Perché oggi è il 21 Perché Il mezzanotte di Dopodomani Ragazzi Che faccio Facciamo il 23 Lo festeggiamo Lo festeggiamo Senza alcun problema Lo festeggiamo insieme Dopodomani Merda ragazzi Ragazzi 35 anni 35 anni ragazzi GeoGuessr Non lo so In realtà Dopo tutto quello Che ho sentito In questi giorni Me l'ha venuta voglia Di giocare a Fortnite Per sparare in faccia Alle persone Però Stavo pensando A che cazzo